Ehi, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono io il vostro del peggiore e oggi in questo video ne siamo due, ci sono con me, il mio amico Gennaro, ciao, e il mio amico Alessio, bella Ok, giusto che noi stiamo giocando a FIFA, o che è successo? Oh, grip, è che da molto Tanto che stiamo giocando a FIFA, stiamo aspettando l'asta per Godin, nel frattempo giochiamo un po' qua, GTA Stai andando E se non sta bene, è una bici, la bici, ma la quanta è piccolosa, io ve lo sconso Cosa hai detto, ho scritto il CG, sali Oh, ho scritto il CG, sali Oh, ho scritto il CG A bmx fregge Oh, benvenuti Oh, 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 mangi, tu che stai dicendo? Tu che stai dicendo? Franchè! So pilotare molto bene la biciclettina, ragazzi. Sembra la BMX da questa distanza. Non so, no, è la BMX. E qua. Maggi, non freddo, fran! Ma che è una macchina? No, io sono i colori. E' un po' io. Oh, oh, oh! Wow, il trucco era quello. Avere. Wow, questo è come portare la bicicletta all'Alessio. Molato. Eh, perché, perché? Alessio camminava spezzierato sulle strade di via Benefetto Croce. Ma del certo punto è morto. Dove è andato? Ah, giocando con Alessio, ragazzi. So, un po'. Ehi. Subito, si muove. Allora, un po' mi piace si muove. Ah, un po'. Un po'. C'ho un po' traganza. Così si muove uno schermo, sì. Eci, tu vuoi, tu vuoi. Guardi, ma. Anche. Un po'. Allì, non mi so. Così? 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 la sua macchina. Come si va a prendere la macchina? Eh, beh, con l'invio. Sei il trucco delle macchine volanti? Sì. Te lo scrivo io perché è difficile. Aspè, 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 non mi ha tolto. Boom! Che ti amo! Oh, che trovo. Che ripensi di questa bella figa? Non lo so. Non lo so. Un große tava della Un grosso dal tempo. Un giudicato! лейガ! Qual è lo dittacciamo, le due di codi! Che è il volume del sensato pimpone! ZUUKA. Sì, è più 우와, ma non è il BAN. Sì, è più avvenuta dal poche. Ma la scatela Roi! Oie che è così! Roi è a bordo! Oh oh! Lo ho messo! Ma cosa facciamo? Adesso si è salita, ma il caglio ha perso adesso! Come vediamo il caglio. È premaria! No, 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 no. E' tromba! Eccolo! Oh lo stanno trovando! Ma lo fa venire! T'hanno scopato in macchina! I tagli suoi gli scendono! Se lo stanno rubando! La puttana! Guarda intanto lo stanno facendo la giusta e gli scendono! Finisce qui la puttana! No! C'è uscita la sperma! Metti il trucco! 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 Vai! E' affilato! Vediamo le macchine se vuoi! Olè! No! Non volano! No! Volano! Siamo schiattati! Guarda qua! Vola! Alessio! Per camminare meglio premi in via! No! Vole! Premi in via subito! Vole! 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 Va bene ragazzi! Il video di oggi mi dice qui! Sì! E' certo! Hai ammettato! Wow! Il video di oggi finisce qui! Spero che vi sia piaciuto! Iscrivetevi al canale! Commentate! Mettete il pollicione in su! E' un saluto da me! Alessio! Bella! E' generalo! Ciao ragazzi! Grazie.